100 g di elio, con simbolo HE, di peso molecolare e massa molecolare pari a 4, in equilibrio, sono contenuti in un serbatoio rigido che viene successivamente buttato in mare. Sapendo che la conseguente variazione di energia interna del gas è ΔU pari a meno 4.700 J, è nell'ipotesi che l'elio possa essere considerato un gas perfetto, che il mare possa essere considerato come una sorgente a temperatura T pari a 285 gradi Kelvin, e che la capacità termica del serbatoio sia trascurabile, si determini la variazione di nitropina ΔS dell'universo. L'ho letto assolutamente in apnea, non mi viene la parola, scriviamo i dati di questo problema che è un problema che è stato risolto, ve lo dico subito, il 12 gennaio del 2000 alla facoltà di Ingegneria Energetica dell'Università della Sapienza di Roma, è il mio solito faldonne di testi ingialliti di quei tempi, dei tempi in cui frequentavo ancora io la Sapienza, avevo già fatto l'esame di fisica, ma questi sono dei testi che io ho trovato al Dipartimento di Fisica della Sapienza di Roma, di quegli anni che ci ria solamente chi ha frequentato in quegli anni. Dato numero 1, ci danno evidentemente, dunque una cosa importante, attenzione che ci danno il peso molecolare dell'elio, ci danno però la sua massa, che ci dicono essere 100 grammi e che lascerei in grammi perché poi mi accorrei il numero di moli di questo gas. 2 è appunto la massa molecolare dell'elio, che ci dicono essere 4. Dato numero 3, ci danno la variazione di energia interna che è negativa, meno 4.000, 1.600 Joule. Dato numero 4, ci danno la sorgente a temperatura T, che poi non è altro che il mare, T, che è 285 gradi Kelvin e poi infine sfrutterei il fatto che ci dicono che l'elio è da considerarsi un gas perfetto e ve lo ricordo l'elio è monoatomico, è un gas monoatomico, quindi C con V è 3 mezzi R e se qualcuno interessa C con P sarà quindi un 5 mezzi R, ma questo perché va saputo che l'elio è per definizione un gas monoatomico, qui ci dicono che supporre che sia anche un gas ideale, un gas perfetto, dunque se l'elio lo consideriamo un gas ideale, per esso vale l'equazione di stato dei gas perfetti PV uguale NRT, dalla quale io intanto mi calcolerei N, N per definizione è la massa in grammi del gas diviso il peso molecolare, la massa molecolare e quindi se fate 100 diviso 4 ottenete un 25 moli, quindi 25 moli sono appunto le moli del nostro gas perfetto, il nostro elio monoatomico. Inoltre ci danno una mancanza di energia interna, chiaramente qui si parla di una trasformazione isocora perché evidentemente delta U è nCV delta T, in questo modo noi possiamo sapere che questo è nCV temperatura finale meno temperatura iniziale, temperatura finale evidentemente è T, la temperatura del mare, meno appunto questo T, T0, possiamo dicarla così, temperatura iniziale, T appunto è 208 dal 5 gradi Kelvin. Siccome conosciamo CV che è 3 mezzi R, io a questo punto mi calcolerei, scriverei che quindi delta U evidentemente è pari a, moltiplicherei nCV per T meno nCV T con 0. Evidentemente trasporterei quel meno nCV T con 0 a sinistra e trasporterei delta U a destra, scrivendo che n, non eta però, n, se riesco a riscrivere nCV T0, che poi è T0 che vogliamo calcolare, la temperatura iniziale, è pari a nCV T meno delta U. CV è 3 mezzi R, quindi scriverei un n per 3 mezzi R per T0 è uguale a n 3 mezzi R per T meno delta U. Da cui scriverei evidentemente che T0 dividendo per 3 mezzi R da una parte all'altra è T, perché 3 mezzi R fratto 3 mezzi R si semplificano di male T, meno appunto delta U diviso 3 mezzi nR. Tuttavia, se ribaltiamo, lo scriviamo anche T0, lo possiamo anche scrivere meglio come T, meno un 2 volte delta U diviso 3 nR. Allora, se fate questo conto, vi viene un 285 K, che è T, la temperatura finale, quella del mare, non è altro che il mare, e quel valore, se lo fate, viene 15 K, quindi viene circa un, se fate questo conto, 300 K, quindi in pratica 300 K è la temperatura iniziale. E a questo punto mi calcolerei la variazione di etropia dell'universo. Allora, possiamo, il problema è molto facile, nel quale però bisogna fare alcune, non difficili e lungo, ma bisogna fare alcune supposizioni in base alle ipotesi che ci danno e alcune deduzioni, perché per esempio il fatto che fosse, si parli di una trasformazione isocora o isocora era abbastanza scontato, visto che ci davano questa delta U, però attenzione perché bisogna leggere con attenzione i dati del testo. Io vi ricordo che la variazione di etropia dell'universo che ci viene richiesta dal testo è, in generale, come sappiamo, delta S del gas più delta S dell'ambiente. L'ambiente in questo caso è il mare, evidentemente, mi sembra evidente. E quindi delta S dell'ambiente, ve lo ricordo, chi sarà? E sarà Q, evidentemente diviso T, che è la temperatura appunto del mare. È evidente che nell'isocora L0, Q è parola delta U, quindi in questo caso, attenzione, che delta S dell'ambiente, che ve lo ricordo, è Q su T, sarà un meno, perché la variazione di etropia dell'ambiente ha segno opposto rispetto a, no? Se lì c'è un delta U negativo, qui sarà un meno delta U del gas diviso T. Come al solito, come al solito, quando calcoliamo la variazione di etropia dell'ambiente, accade sempre questo. Questo è il testo dell'ambiente. Nel testo del gas, invece, la variazione di etropia del gas, qui, non è zero, ma chi sarà? Beh, sarà, per definizione, NR, come vuole la regola, la variazione di etropia di un gas, e in generale, se guardate anche nel Mazzoli, che è scritto, ma l'ho visto tante volte, è NR logaritmo del volume finale sul volume iniziale, più NCV logaritmo di T finale fratto T iniziale, no? Dove V finale, possiamo indicarlo con V, e V iniziale con V zero. Chiaramente, però, questa prima parte non c'è, perché, se la trasformazione isocora, VF e VI sono gli stessi, quindi troviamo che la variazione di etropia di questo gas, di questo elio, non è altro che NCV logaritmo naturale di T su T zero. E quindi, in definitiva, sommando delta S dell'universo sarà, che, ripeto, è delta S del gas più delta S dell'ambiente, e questo lo sappiamo per definizione, sarà uguale a, in generale, NCV logaritmo di T su T zero, più questo meno delta U del gas diviso T, questo è quello che troviamo, no? Scriviamo magari meglio, ripeto, NCV logaritmo naturale di T, temperatura finale, temperatura iniziale, più, appunto, questo Q su T che è delta S dell'ambiente, cioè delta U del gas diviso T. Se fate questo conto, visto che otteniamo tre mezzi NR, logaritmo di 0,95, più questo 16,5 viene circa, viene un 16,5, il primo termine evidentemente è negativo, viene meno 15,99, a me, personalmente, viene un, se fate questo conto, viene un 0,64 Joule su Kelvin. Abbiamo risolto facilmente questo vecchio problema, non vecchio problema, un problema abbastanza datato, diciamo, tratto da un testo della sapienza degli anni 2000. Ciao a tutti, alla prossima!